Siamo con Cannavacciolo, a fine gara il Corno d'Oro vince questa partita e riduce la distanza con il vertice ma molto importante il dato aritmetico in quanto si porta più 4 dalla zona di quelli che stanno in sesta posizione quindi ormai siete in piena zona playoff, davvero un campionato entusiasmante Sì, ora siamo in pista e abbiamo fatto una buona prestazione, anche i ragazzi ce l'hanno messa tutta perché sapevamo che questa partita era molto importante anche perché c'era un altro scontro e ora abbiamo altre due gare, dobbiamo giocare con l'Olevanese in casa loro è anche importante un altro scontro, questi loro sono secondi e poi abbiamo la Cerno in casa Bene, ecco un altro dato importante risulta la partita di oggi, un 3-0 che conferma e legittima il progetto societario, vero? Sì, sì, molto importante questa vittoria, come ho detto anche prima anche per la società che ci vengono sempre a vedere ogni domenica perché fanno dei sacrifici anche loro e noi ci divertiamo molto così Bene, alla fine cosa ne pensa lei della sua prestazione e dei suoi compagni? Io ho giocato diciamo bene, anche se ho mancato un paio di volte, però la stanchezza c'è anche i miei compagni mi hanno aiutato, sì, la squadra ha giocato bene oggi Ringraziamo il numero 5 Canavacciolo qui nelle immagini della squadra Corno d'Oro, grazie all'attenzione su Telesport.nei Siamo con Mister Castagna a fine gara, grande vittoria vi porta a distanziarvi dalla sesta posizione a 4 punti quindi davvero un momento magico per la squadra Corno d'Oro Sì, stiamo attraversando un buon momento e speriamo di continuare così oggi abbiamo attuato un nuovo modulo, un 3-5-2 e la squadra ha risposto bene speriamo di continuare così, ci stiamo allenando bene domenica abbiamo un altro scontro diretto ad Olevano che sarà una partita durissima sperando di fare il risultato anche lì Ecco, secondo lei cosa le è piaciuto della sua squadra? Mi è piaciuto il carattere, la grinta, la cattiveria che ci hanno messo una squadra veramente che vuole raggiungere l'obiettivo finale Secondo lei questo modulo che lei ha adottato ha funzionato perfettamente? Sì, mi sono piaciuti perché abbiamo costruito tanto siamo andati un sacco di volte alla conclusione quindi sono contento della prestazione di oggi e di questo modulo Diciamo una società molto seria, quella del Corno d'Oro lei finora non ha trovato problemi, si è trovato in piena serenità Sì, è una società nuova, gente umile, gente che vuole fare calcio gente che vuole programmare, persone che stanno vicino alla squadra che non danno nessun tipo di problemi ringrazio anche loro, ne approfitto perché mi hanno dato la possibilità di incominciare ad allenare